Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova bellissima puntata di Dalla parte degli animali. Il nostro viaggio per i canili e rifugi di tutta Italia per conoscere tanti piccoli amici senza casa che aspettano solo una nuova famiglia e una nuova opportunità. Chi non ama gli animali è sempre una persona meschina, egoista e sicuramente poco simpatica ma tutti voi che come me li amate siete persone buone, generose e di grande cuore proprio come i protagonisti di questa nostra puntata. Andiamo intanto a conoscerli velocemente. Nella puntata di oggi conosceremo Moira, la donna che vive con gli asini, incontreremo l'amico famoso di Piper il cane della bellissima Justin Matera, vi mostreremo le fantastiche protezze del corpo nazionale degli alpini e vi racconteremo la storia delle tofine di Sansone che ha salvato il suo padrone. Sentiremo i consigli del nostro veterinario e vi presenteremo gli amici di Georgia Palmas. Andremo tutti quanti a scuola con Happy, il gatto professore. E chi dice che solo i cani possono diventare i nostri amici? Vi presenteremo Yolanda, un maialino per amico. E poi vi racconteremo l'incredibile storia di Mario, il papà di Jessica che ha adottato Golia, un cane sopravvissuto, alla tragedia di Rigopiano. E poi tanti, tanti amici cercano una nuova casa. Vi do appuntamento con una nuova e meravigliosa domenica in famiglia, una domenica italiana, una nuova domenica dalla parte degli animali.